C'è il colpo di scena Io e Alessio Dato che abbiamo visto che ormai Franci Ha una taglia non più L ma diciamo un XL E Alessio abbiamo pensato di un regalo particolare Dai Ale tiralo fuori Dato anche Natale Un regalo utile per lui Tieni Franci Un collare no Un collare XL Un destro indiretto Mi è piaciuto il destro Mi è piaciuto Auguri Franci Buon Natale